Sicuramente sto per fare una figura di merda, intanto bella per la mia voce che è tornata Ma ho visto un sacco di gente col joystick da console e di livello 1 giocare in questa lobby E cazzo, spero di non fare una figura di merda galattica e riuscire a fare una performance quantomeno discreta Cioè sono praticamente assordato perché ho l'audio delle cuffie a metà volume Anzi, forse anche meno, un 30% e COD che è a metà volume sul PC Quindi sento veramente poco Dai cazzo, quanto ci sto mettendo a trovare della roba Avrei già, avrei voluto già aver ammazzato uno, per dire Ok, 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 no questa mi piace di più, no questa mi piace di più Oh eh, tua madre puttana proprio Ciao Vex, come stai? Cioè mi hai fatto un po' di buchi sulla pancia eh E quello che mi sta sul cazzo è che quando si stronzi e provano ad attaccarti Magari poi li ammazzi, ok Però ti fanno sgammare da altra gente che viene e ti ammazza perché sei in fin di vita No, qua sono esposto come la merda proprio Certo non che sopra un tetto eh, non si è preso meglio però Che schifo, che povertà cazzo Sono anche appena fuori safe ma Questo è il meno Vorrei due o tre ceste, due o tre scudini, due o tre cazzetti e mazzi Eeeh, un fucile a pompa L'arma che proprio imbatte a Royal No, cioè non ce ne so se in una casa, in una mappa Porca di quella troia, ecco vedi, vedi perché non mi piace Porca troia Me la campero, me la campero Ma la mira ragazzi, l'avete lasciata a casa Oh, c'è altra gente Vedete? Fucile a pompa ragazzi Per carità io ho fatto la merda camperando dentro una cassa Cioè dietro una cassa Però Cristo cosa dovevo fargli, cioè Mandargli la posizione, dire vieni qua, vieni, ammazzami pure Cioè boh, vabbè Mi aspettavo un po' più stealth il tizio lì Ecco per dire In quel caso lì Che ci stava un sacco il pompa perché eravamo a distanza ravvicinata Comunque l'ha presa in culo, cioè Eeeh, vabbè Vabbè Eeeh, non mi piace adesso correre così a cross campagna Però vabbè dai due kill Fatto Boom 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 al superstore Ma dai, ma qui non c'è veramente una sega Covoni di paglia e basta Bah Eh, ragazzi l'icone comunque perché c'è la mia voce che è tornata Ora spero si sta registrando anche la voce Altrimenti sono qui che parlo da solo come un coglione Però ragazzi c'è stata la richiesta della voce E la voce è tornata Potrebbe esserci la webcam anche in un futuro Forse sì Magari mettiamo anche la grafica ultra Magari con una scheda di video un po' più potente Anche quello magari sì Eeeh, qua c'è il sagrone qua davanti Cioè, è chiaro se riesco ad entrare in questo edificio, chiaramente Ecco, il bello del singolo È che sai che se ci sono due che si stanno Cioè, due nemici Ci sono due nemici che giocano È qui, è qui a destra L'uno contro l'altro Non è che Sono in squadra assieme Ne amazzi una per l'altro ti fotte Facciamo la merda Facciamo le merda, dai Ok A posto Ho fatto abbastanza la merda Eh, non so se c'è un'abilità Per essere stealth da sta roba qui Sarebbe un perdito in culo Non l'ha presa la sesta Vai o là Vabbè, non ti vedo qua Vaffanculo Questa ci sta un fracco Eh, ce l'ho già Che pirla, vabbè Eeeh Bezza Eh Beh, oddio C'è la Claymore Qua c'è quella mina lì Porca di quella Porca di quella puttana Porca di quella puttana Ho aperto bocca No, ho già il gulag Che schifo Vabbè, dai Novantotto A me piace giocarmela Che schifo Beh, ho la Claymore Dai, almeno ho la Claymore Quattro Tre Due Uno Stacca Fa un culo Oh Che culo Che culo di merda Eh, il gulag Mi piace tenermelo per la fine Ragazzi Perché se no Cioè Morire subito E giocarsi La seconda chance Meh Avete Ho detto che andavo in top 50 Sì Speriamo Cazzo Dai, sono 90 player Adesso me la devo giocare bene Devo tentare di rompermi le gambe qui E devo trovare subito Delle approvvigionamenti Cazzo Che peccato Però quello lì Avevo messo mina dappertutto In que... Eh, questo qua mi vuole In cularmi Avevo messo mina dappertutto Era la terza kill Potevo andare avanti Va Che Figa Vabbè Vabbè Quel che è fatto è fatto Ah, spero Cioè Ho detto Cazzo Se mi sta seguendo Avevo un bastardo Oh Qua non c'è passato nessuno Che c'è tutta la roba Ancora Eh Ma Cos'è sta roba Che c'è un RPG C'è proprio A piscio di cane Così Cioè Fosse un'arma figa Cazzo Anche l'MG Mi fa parecchio Sul cazzo Eh Precisione Mè Lento come il culo Non è neanche Non fa neanche tutto sto danno Bah 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 Dai ragazzi Spero sia un po' più intrattenente Con la mia voce Che Mi fa saltare i timpani No Ok Ho sentito dei passi Oh Oh Un elicottero Una macchina Un po' di tutto Dai che Se Faccio la provata Con l'RPG Wow 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 Ma cosa Quanti cazzo di pianeti sono Oh ragazzi 79 rimasti Qui Vabbè Vabbè Comunque Far top 50 Da poveri È Strada poveri Però Eh Un bel cecchino Cristo Santo Vabbè Mi sto lamentando Un po' troppo Forse Ti dirò di più Mi tengo l'RPG Piuttosto Mi tengo l'RPG L'R Cazzo PG Oh Spari 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 Faccio una cesta No O è qui dentro No è qui Eh Sì Sarà qui Ok Devo scendere di qualche piano Eh lo so Adesso non mi sto particolarmente andando a caccia di nemici Ma ragazzi Cioè Non ho un cazzo Ok È qui È qui È qui È qui È qui È qui E la madonna Eccola qua C'è sto RPG di merda Che non mi dà neanche colpi Cioè Cioè Quanto è truffaldina sta roba Ah i cavi I cavi Non mi dispiacciono Su sto coso Dai che c'è il camio Dai che c'è il camio Dai che faccio saltare il camio Oh c'è un'altra cesta Naffanculo il camio Cesta 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 Vabbè Mi direi di più Andrei a prendermi Una delle mie classi Giusto per Avere qualche armetta in più È un po' meglio Qua è pieno in teoria Cioè io mi sto Buttando nella Mischia Con uno scar Che mi sta Bastanta sul cazzo È un RPG Vabbè vediamo come va Ma sì Siamo Nemico 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 In macchina Attenzione Attenzione Devastante Ho fatto la cazza Stavo per fare una cazzata Ragazzi Si fermavano Magari erano Ah no beh Aperta che siamo Vedete È la modalità Malloppo Che mi ha rovinato Il cervello È la modalità Tipo Battle Royale Senza Solitario Qui se c'è Uno stronzo Da solo Non è che sono In 4-5 E mi cagano La minchia Che bella Che bella Che bella È andata È andata È andata tutto Tutto sommato Benino Ah era il tizio In macchina Non ci credo Oddio Atomico Che faccio Aspetto la safe Oh cazzo Potrei Potrei avere Potrei avere un RPG Ed è ancora Ed è ancora lì Secca Sono di parlare Parlare Di solito Gioco in rigoroso Silenzio Ciao bello Dai vieni fuori Puttana troia Cosa Cosa è successo No No Faccio cagare Col cieco Ah No No Porca di quella Puttana È sposto Come la merda Ok 44esimo Top 50 Raggiunta Non faccio così Schifo Alla prossima